Abbiamo così, in questo tempo forte di Quaresima, il doloroso percorso di Gesù, a cui non si può fare a meno di accostare il dolore di Maria, sua madre, che ha vissuto al suo fianco, silenziosa, tutta la passione del figlio. Terminate le stazioni della Beatrice, troviamo ad accoglierci la statua della Santissima Assunta, a cui teneramente ci postriamo, affinché possa esserci di esempio e sostegno, lei che per prima ha vissuto e sperimentato tutte le difficoltà della vita, come donna, moglie e madre, segno di sicura speranza nel pellegrinaggio terreno. Ci illumini sul senso vero e sul valore dell'esistenza umana, nella prospettiva dell'eternità. Ci raccogliamo ora alla recita del Santo Rosario, la Santa Messa a Polenodi, nella terza settimana di Quaresima, celebrata dal padre da Don Valeriano Polone, e gloriamo l'intercessione della Santissima Mane di Gesù a cui... ... 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 La stessa pace che sai dare solo tu Canterò quella vita che ci ha donato il figlio tuo Gesù Lucia l'ucia 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 Lucia l'ucia 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 l Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora di nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Al Vangelo di Dio, in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Dio, in cui è entrata nella casa di Zaccaria, saluto Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grimbo. Padre, padre nostro, padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave, 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 ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Dio, sei del Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amore mio, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le atme, specialmente le più bisognose nella tua misericordia. Amore mio, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo di Luca, in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Amore mio, perdona le nostre volte. Amore mio, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo e così in terra. Grazie oggi il nostro Padre quotidiano, benedetta in noi i nostri debiti, o che noi rilettiamo i nostri lepitori, e non cittura in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie. Grazie.